Secondo giorno di chiusura per la fontana delle 99 cannelle, c'è un lucchetto messo dal comune perché sono in corso, anche se in questo momento nessuno sta lavorando, degli interventi di manutenzione. Le immagini dei giorni scorsi con la piazza ricoperta in pratica da melma hanno fatto il giro del web con tante critiche che si sono susseguite perché questo è uno dei monumenti più importanti e anche più visitati dai turisti che già in questi giorni stanno affollando la città. Quindi è in corso un intervento di manutenzione che servirà soprattutto a risolvere poi i problemi dei mascheroni perché sono quasi tutti chiusi, soltanto qualcuno è rimasto aperto dal quale scorre ancora acqua. Da ieri mattina la fontana delle 99 cannelle a Borgorivera, da sempre in meta dei turisti, è chiusa al pubblico. L'acqua non scorre dai mascheroni tradizionali e c'è un lucchetto al cancello, anche questa mattina stesso scenario, con qualche turista che ha trovato chiuso il monumento. Gli operai del comune ieri, dopo le proteste dei giorni scorsi per le condizioni dell'area, hanno iniziato il lavoro per la manutenzione straordinaria con pulizia della fontana. L'acqua putrida aveva invaso il piazzale inondato da alghe, muschi e licheni. Dopo la chiusura dell'acqua la piazza è stata ripulita dalla melma, ma servono ancora altri interventi. Le condizioni del piazzale della fontana storica hanno suscitato molte reazioni in città. Del resto si tratta di uno dei monumenti più importanti dell'Aquila. Il PD ha sferrato un attacco frontale contro l'amministrazione, perché l'incura dei monumenti per loro è inaccettabile. Per i dem si dà un'immagine incipriata, ma la realtà è diversa, e hanno citato pure la fontana luminosa, la basilica di Colle Maggio ancora col piazzale sterrate e l'auditorium del castello. La zona è da sempre meta di turismo per la storia dei 99, a pochi passi c'è il Munda, e dunque si tratta di una delle aree più gettonate del centro cittadino. Grazie a tutti.